Com'è la vita da hostess all'EICMA? Mi piacevole, lo faccio da tanti anni e mi trovo molto bene. Un mondo fatto di moto, motori e soprattutto belle donne. Bellissima, bellissima, comunque tanta gente gentile. Poi ovviamente c'è anche qualcuno che fa qualche commentino, qualcosa, però vabbè è normale alla fine. Comunque gli appassionati di moto vengono e trovano qualsiasi brand. È un ritrovo per tutti i motociclisti, la fine, tutti quali del settore. Speriamo di divertirci insieme alla gente che viene e che loro si divertano soprattutto. Moto e passione per le moto e passione per le donne. Saluti e baci da Elena e Deborah. Ciao!